Si può vivere benissimo, senza anima. L'unico problema è che se vivi senza anima, le cose non ti vengono più incontro quando le chiami con il loro nome. Il progetto Marozia, nato da un protocollo d'intesa tra il comune di Gubbio e l'associazione Settimana del Libro, in cui si sono poi inseriti ASL Umbria 1 e Scuole, è pronto a partire con il secondo anno di attività. Il progetto ha infatti durata triennale e lo scorso anno si è concluso con una giornata di laboratorio aperto per mostrare alla città cosa si fa ogni settimana. L'anno scorso è andato molto bene e quest'anno sembra che vada anche un po' meglio forse perché gli interessati sono tantissimi. A me mi hanno contattato circa 150 persone, adesso vedremo come organizzarli. Sei incontri a settimana con sei gruppi diversi che si ritrovano non per partecipare ad un laboratorio teatrale, ma ad un progetto nato e cresciuto con l'obiettivo di lavorare su se stessi, mentre si creano relazioni con gli altri. Innanzitutto è intergenerazionale, quindi l'anno scorso andavano dai 12 ai 78 anni, quindi erano gruppi anche di 20 persone, varie generazioni, varie provenienze che stanno insieme. Non pochissime persone vengono qua in verità proprio per il teatro perché magari vogliono fare il teatro. Quindi secondo me questo progetto ha risposto a un bisogno che sta prima del teatro delle persone, cioè di condividere un tempo, uno spazio di stare insieme. Io mi verrebbe quasi da dire di stare insieme come si stava insieme qualche decennio fa, in piazza all'aperto. Quella particolarità è che il lavoro è senza parole, è tutto un lavoro di relazione fisica, di contatto fisico e quindi ci si incontra in un luogo che è al di qua della parola, prima della parola ecco. Il progetto, nato con la precedente amministrazione, è stato sostenuto anche dalla nuova. Ed è un progetto che nasce per far luce su alcune fragilità e bisogni emerse tra i giovani.